Nella parte in cui la procura non ha autorizzato la trasmissione, prosegue con l'esecuzione, due colpi. Secondo quanto si è potuto apprendere, le immagini mostrano quattro occhi che era in ginocchio cadere in avanti. I suoi assassini lo girano sul fianco sinistro, gli scoprono il volto e mostrano il viso insanguinato alla telecamera. Il corpo viene poi sollevato da uno dei terroristi e messo dentro una fossa che era stata scavata davanti. Ma la morte di quattro occhi rimarrà per tutti in quella frase. Vi faccio vedere come muore un italiano. Vi faccio vedere come muore un italiano.